La ragione che guida questo protocollo sottoscritto oggi è quella di lavorare insieme, di collaborare scambiandosi competenze, scambiandosi modelli gestionali, scambiandosi eccellenze professionali. Non è soltanto quella di ridurre la mobilità in uscita dalla Sicilia verso il Rizzoli ma è anche quella di garantire un livello di collaborazione istituzionale tra le regioni che è l'elemento decisivo del Servizio Sanitario Nazionale.